Un argomento che sta tenendo banco in questi giorni sono le cosiddette bollette pazze della Ruzzoreti. Tanti cittadini terramani che hanno ricevuto queste bollette, cifre molto alte, soprattutto scadenze, insomma bisogna pagarle entro pochi giorni. Il centro politico comunista Santa Croce ha denunciato questo fatto, soprattutto chiamando un gesto di responsabilità alla direzione della Ruzzoreti. Esatto, stiamo vivendo tutti quanti un periodo di crisi, tantissime persone sono rimaste senza lavoro, quindi disoccupate, tirano a campare fino alla fine del mese e quindi in questo momento avere delle bollette, quindi sul gruppone dei pagamenti così importanti è quasi impossibile da sostenere. Quindi noi come centro politico chiediamo un atto di responsabilità sia al Consiglio dell'amministrazione della Ruzzoreti ma soprattutto anche ai sindaci perché sono loro che poi gli danno l'indirizzo e li nominano. Quindi chiediamo una moratoria oppure il taglio del 50% delle bollette per tutte quelle famiglie che sono in difficoltà economiche e per tutti quanti per i nuclei dove delle persone hanno perso il lavoro. È un gesto di responsabilità perché in questo momento bisogna essere responsabili e attenti. Avvierete anche delle azioni, farete anche delle dimostrazioni alla Ruzzoreti in merito? Allora stiamo valutando tutto perché vogliamo costruire le cose dal basso con le persone, quindi non vogliamo noi decidere per gli altri. Faremo dell'assemblea, cercheremo di relazionarci con tutte quelle persone che stanno vivendo questo momento e vedremo poi da farsi. Soprattutto noi vogliamo chiedere ai sindaci di fare un atto di responsabilità perché sono loro che vengono eletti dagli elettori e non soltanto dagli elettori che possono permettersi di pagare la bolletta ma anche quelli che non possono permettersi. Perché ricordiamoci pure che alla fine sono loro che nel bene o nel male nominano il Consiglio d'amministrazione e quindi devono rispettare anche i cittadini più poveri. Questo è un gesto di responsabilità che va fatto assolutamente. Logicamente stiamo pagando per delle spese enormi, quindi la soluzione che noi anche proponiamo è quella di ammodernare il sistema, non con i vecchi contatori, quelli dell'anteguerra, ma di fare degli interventi per di ammodernamento, quindi mettere dei contatori tecnologici che possono essere monitorati appunto dagli utenti, come viene già fatto in altre parti d'Italia, tipo Appavia, dove le persone appunto possono sapere l'orario del consumo. Questo evita conguagli e delle situazioni insostenibili come quella che si è venuta a creare.